Leonardo nasce a Vinci il 15 di aprile del 1452 e Vinci conserva ancora oggi intatto quel paesaggio che vide la nascita di Leonardo quando noi viene un turista di fuori noi gli consigliamo di andare nella campagna andare a ricercare quelli che erano i luoghi, gli scorci di Leonardo e ce n'è solo tantissimi ancora grazie 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 grazie